Per trovare a questa nuova edizione del nostro telegiornale vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano ci occupiamo della situazione dell'istituto Denino Morandi di Sulmona perché si punta al rientro a settembre in una sede alternativa. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Il comune di Sulmona tende a riportare dal mese di settembre gli studenti del Denino Morandi in città in una sede alternativa in attesa che si sblocchi la situazione per i lavori di adiocamento sismico nello storico edificio di Via d'Andrea. E quanto è emerso fra le altre cose nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo San Francesco fra una delegazione del comitato Denino Morandi, il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, l'assessore comunale con delega a riporti pubblici Mario Senibaldi e la consigliera Roberta Salvati. Si stanno vagliando tutte le ipotesi per consentire il rientro degli studenti a Sulmona per settembre ma è ancora presto per sbilanciarsi dal momento che devono essere eseguite tutte le verifiche del caso, ha detto il presidente dell'assise civica. L'impegno di reperire serie alternative e di ospitare gli studenti fu preso proprio dal comune nel primo tavolo sul Denino Morandi dell'Era Casini che risale al 12 luglio 2016. Nel corso dell'incontro è emersa anche la necessità di richiedere alla provincia dell'Aquila il testo della convenzione Siglada con il proveritorato alle opere pubbliche diventato soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori al plesso scolastico dei ragionieri e geometri. L'intenzione degli amministratori in piena sintonia con il comitato è quella di richiedere un incontro con i proveritorato per percorrere la strada dello scorrimento della gradatoria che accorcerebbe di molto i tempi del rientro degli studenti a Sulmona. Il ponte fra comune e proveritorato si chiama in questo caso Regione Abruzzo. Intanto in attesa di ripristinare i servizi dell'Agenzia di promozione culturale di Sulmona arriva una proposta per la creazione di un'aula studio nel centro giovani. Sentiamo. Attivare nel centro giovani di Sulmona un'aula studio temporanea nell'attesa che siano ripristinati appieno i servizi dell'Agenzia di promozione culturale. La proposta arriva ad altrimenti all'indomani della decisione presa dalla Regione di trasferire l'APC in via Sardi. L'APC resta ormai chiusa da più di 20 giorni nel pieno del periodo degli esami per gli studenti universitari e per quelli impegnati con la maturità. Per questo pensiamo che prolungando gli orari di apertura del centro che fa parte dell'offerta dei servizi sociali offerti a giovani dal comune, quindi in piena finalità con la proposta da noi fatta, si possa ruotare la città di un servizio essenziale del quale in molti oggi sentono drammaticamente l'assenza. Qualora ci dovessero essere problemi legati all'apertura e alla chiusura dello spazio, ci mettiamo a disposizione per farlo noi, precisano ad altrimenti Valle Peligna. Speriamo che l'amministrazione si faccia carico della nostra proposta, concludono, che potrebbe essere attivata con efficacia immediata in meno di 24 ore e risolva quanto prima questa odiosa situazione. Sfumata l'apertura selettiva dell'edificio di Piazza Venezuela, l'Agenzia di Promozione Culturale sarà trasferita in via Sardi, mentre il Centro Regionale dei Beni Culturali, nell'ex caserma Pace. Adesso analizziamo una situazione che si sta determinando nel centro storico di Sulmona, con parecchi negozi sfitti, che sono uno scempio soprattutto per i turisti e quanto sostengono in coro i commercianti. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurea. Cresce a vista d'occhio il numero dei negozi sfitti nel centro storico della città di Sulmona e a rilanciare l'allarme sono i commercianti che fanno partire pressing e proprietari degli immobili per studiare più presto una strategia di riconversione. Se ne contano una decina solo nella zona sud del centro storico, quella che per anni è stata rifinita a rischio isolamento. Un'immagine, fra l'altro, che non piace nemmeno ai turisti. Basterebbe davvero poco per revitalizzare le attività chiusa in caso ai commercianti che ripropongono l'idea di trasformare i negozi sfitti in piccoli centri per il turismo, che vanno dalla valorizzazione dei prodotti tipici al richiamo delle tradizioni più sentite a Sulmona. La Convese Arcenti e il Centro Studi CESCOT da anni portano avanti il progetto dei negozi a tempo per creare attività temporanee, proprio laddove la sera cinesca è stata abbassata. A sconfidi e a sconservizi ha sollecitato l'apertura di un tavolo fra amministratori di Palazzo San Francesco e proprietari degli immobili. Tutto resta com'è, ma qualcosa sicuramente andrebbe rivisto per una città che vuole puntare sul turismo. Adesso parliamo della raccolta differenziata nella città di Sulmona perché tra poco sarà estesa tutta la cittadinanza. È partito nel frattempo il conto alla rovescia per la consegna dei mastelli. Sentiamo tutto. Saranno consegnati con molta probabilità entro l'estate i mastelli per l'estensione della raccolta differenziata nella città di Sulmona. Dopo la campagna di sensibilizzazione cominciata nelle frazioni e proseguire a tu per tu con gli amministratori di condominio, Comune e Coggesa tirano i remi in barca. Tra qualche giorno si svolgerà un incontro per programmare i tempi e le modalità di consegna, tenendo conto però che bisogna completare l'incontro di sensibilizzazione con tutta la cittadinanza. L'assessore comunale con delega all'ambiente Alessandra Vella punta a chiudere la partita entro l'estate, anche se, come rimarca Onda DG, è necessario tener conto delle esigenze di tutti, visto che l'operazione da portare a termine è abbastanza consistente. I 20.000 mastelli e 5.000 bidoni condominali da 120 litri sono arrivati nei mesi scorsi e sono stati sistemati nell'ex caserma Cesare e Battisti. Saranno distribuiti nella zona PEP alle frazioni e nel resto della città per un costo rotale di 343.000 euro. Saranno 1.500 le nuove utenze, di cui 900 domestiche e 500 commerciali. Fra queste 1.000 faranno anche compostaggio domestico, cioè concime con loro orti e giardini, 700 le frazioni, 300 in periferia. La soluzione definitiva per evitare qualsiasi interferenza dei laboratori nazionali del Gran Sasso e dell'autostrada A24 sul sistema acqua del Gran Sasso è ricorrere ad un punto di captazione di velto da quello attuale all'interno della montagna. Lo ha detto il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli in un incontro ad Assergi organizzato dai laboratori su richiesta della provincia di Teramo presenti sindaci del comprensorio. L'8 maggio scorso per un presunto caso di inquinamento dell'acqua proveniente dall'invaso del Gran Sasso, la Asla Teramana adottò per 12 ore un provvedimento di non potabilità che gettò nel panico 32 comuni. Lolli parla di intervento irrinunciabile da fare entro il 2019, termine nel quale nel traforo saranno effettuati i lavori per ampliare i bypass tra le due canne. Nel frattempo saranno messi in campo sistemi di analisi in tempo reale e sarà adottato un nuovo protocollo per la condivisione delle valutazioni su interventi di manutenzione sulle infrastrutture. E' saltata ieri sera a Sulmona la fiaccolata del PD per sostenere la difesa sul clima, visto che in pochi si sono radunati in Piazza Capograssi. Il servizio è di Gaetano Trigilio. In cento piazze italiane ieri sera a partire dalle ore 21 e 45 si sono tenute fiaccolate per la difesa del clima, messo in discussione con la decisione del presidente Donald Trump che ha ritirato gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. L'iniziativa è del Partito Democratico che ha inteso con manifestazioni in tutta Italia richiamare l'attenzione della pubblica opinione su un problema planetario che rischia di mettere in serio pericolo l'esistenza delle future generazioni. La tutela dell'ambiente purtroppo comporta restrizioni sulle attività produttive e quindi sacrifici economici. Anche in Abruzzo il Partito Democratico ha risposto all'iniziativa Tutti Insieme per sostenere l'accordo sul clima. Quattro le città dove circola i PD si sono mobilitati, Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Sulmona. Abbiamo il dovere e la responsabilità, prima ancora come cittadini, di salvare gli impegni presse con gli accordi di Parigi, ha affermato il segretario regionale democratico Marco Rapino. In seguito alla scelta di Donald Trump di non mantenere l'impegno degli USA nell'accordo di Parigi sul clima, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Il futuro del nostro pianeta non riguarda solamente la politica, ha proseguito Rapino. La scelta del presidente Donald Trump è una scelta che rifiuta il futuro. Noi vogliamo difendere il futuro e la nostra reazione oggi è necessaria. A Sulmona una quarantina di persone si è riunita in piazza Capograssi attuando proprio vicino al Palazzo di Giustizia un presidio. Dato il numero limitato di presenti, dovuto forse a scassa informazione della cittadinanza sul grave problema, si è deciso di non fare la fiaccolata ma di effettuare a breve un valentinaggio per informare al meglio i cittadini di Sulmona e del comprensorio. Sarà riconsegnato alla cittadinanza completamente ripulito dai rifiuti e adeguatamente segnalato nei suoi sentieri il colle Savente da sempre nel cuore dei passeggiatori. Il tutto è stato possibile grazie alla sezione del CAI sulmonese che nei mesi scorsi ha proceduto attraverso i volontari della montagna a far splendere il colle che domina la Valle Peligna. Ce ne parla nel servizio Barbara delle Monache. Sarà riconsegnato alla cittadinanza completamente ripulito dai rifiuti, adeguatamente segnalato nei suoi sentieri il colle Savente da sempre nel cuore dei passeggiatori. Ad attivare il buon senso civico come al solito la sezione di Sulmona del club alpino italiano da sempre sensibile al tema dell'ambiente montano che nei mesi scorsi si è occupato della manutenzione. Il primo intervento sul colle come sottolinea il CAI arrivò nel 1999 utilizzando fondi regionali per circa 150 mila euro. Finanziamento che riqualificò l'area della ex cava di Pietre Regge e del colle Savente mediante interventi di rivestimento vegetale. Furono messe a dimora oltre 8 mila piante, realizzati una serie di sentieri circa 6 chilometri, una conduttura di acqua potabile senza però essere stata completata oltre ad un'area attrezzata con gazebo, panchine e fontanile. Da allora nessun altro intervento di manutenzione è stato fatto fino a qualche mese fa. Naturalmente il nostro lavoro rappresenta solo l'inizio di una serie di interventi che andranno fatti per rendere il parco pienamente fruibile a quanti lo frequentano, hanno sottolineato dal CAI, quale ad esempio la sistemazione della recinzione in legno, il ripristino pieno e funzionale dell'area attrezzata, gazebo e panchine, il completamento della conduttura dell'acqua potabile e l'installazione di un punto di energia elettrica. Un nuovo look quindi per il colle Savente che sarà più bello di prima. Il CAI chiaramente invita alla civiltà. E adesso ci spostiamo a Pacentro dove in autunno aprirà il cantiere per la costruzione della nuova scuola. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Potrebbero partire dal prossimo turno i lavori per la costruzione della nuova scuola di Pacentro L'obiettivo è quello di tagliare il nastro nei tempi prefissati, anche se, come ricorda il primo cittadino, Purtroppo l'Italia è un paese in cui fare dei cronoprogrammi sui lavori pubblici non è una cosa che sempre può essere rispettata, lo sappiamo, lo sappiamo fortemente. Il rischio è infatti che tutte le procedure finiscano nella morsa della burocrazia e dietro l'angolo, ma il comune di Pacentro già nei prossimi mesi potrebbe indire la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori. I fondi a disposizione per l'edificazione della nuova scuola antisismica, frutto della progettazione partecipata, ammontano complessivamente 1.700.000 euro. L'ultimo contributo, pari a 1.000.000 euro, è arrivato dal Cipe. La nuova scuola, che ospedirà circa 80 alunni, sarà un cerchio con una piazza all'interno, un orto ridattico, una biblioteca, dal momento che l'edificio fungerà da punto di riferimento per la popolazione. Pareti mobili per ingrandire o rimpicciolire gli ambienti in base alle esigenze, attenzione all'ambiente e un occhio alle energie rinnovabili, saranno utilizzate gli scarti di bosco per riscaldare le aule. Ora Pacentro aspetta il taglio del nastro di una scuola che promuove l'innovazione architettonica, destata al centro nel 2015, di un laboratorio di architettura partecipata. Restiamo a Pacentro perché la locale Scuola Media si aggiudica il concorso, nazionale Federchimica Giovani. Sentiamo. Chimica, la scienza che muove il mondo, è il tema del premio nazionale Federchimica Giovani vinto dalla Scuola Media di Pacentro che ha visto la partecipazione di quasi 500 candidati dalle scuole medie di tutta Italia, coinvolti in totale 7000 studenti che da soli o in gruppo hanno raccontato la propria visione della chimica. Sono stati consegnati presso il Museo della Storia e della Tecnologia di Milano 25 premi, 12 vincitori individuali, 13 scuole e i 300 ragazzi che attraverso favole, storie fantasy, interviste, indagini e reportaggi giornalistici sono risultati più bravi nel raccontare come la chimica ci assiste nella vita quotidiana e ci aiuta ad affrontare le grandi sfide dell'umanità e del pianeta. Tra i vincitori, due studenti con il racconto dell'età della pietra al microchip, un'intervista impossibile al silicio della classe seconda A della Scuola Media di Pacentro. I ragazzi della Scuola di Pacentro hanno immaginato l'intervistare un atomo di silicio senza tralasciare l'aspetto scientifico. Gli insegnanti si sono impegnati molto nel voler stimolare l'interesse degli alunni per il mondo della chimica, nonostante abbiano dovuto lavorare in condizioni di estrema difficoltà dovute alle conseguenze del sisma dello scorso anno in centro Italia. Facci i miei complimenti agli studenti e docenti per questo grande risultato, commenta con soddisfazione il sindaco di Pacentro, Guido Angelilli. È la prova concreta di come una piccola scuola isolata possa essere un centro di eccellenza. E noi stiamo proprio lavorando in questa direzione unitamente alla dirigente scolastica e all'ufficio regionale e provinciale scolastico e all'istituto nazionale di ricerca sulla didattica all'indire. La diocesi di Sulmona Valva, venerdì prossimo 9 giugno, celebrerà i dieci anni della consacrazione del suo vescovo Monsignor Angelo Spina con una solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale di San Panfilo. Alle ore 18 e 30 alla celebrazione prenderanno parte i sacerdoti religiosi, le religiose, le associazioni laicali della diocesi. Monsignor Angelo Spina è nato a Colle d'Anchise in provincia di Campobasso il 13 novembre 1954. È stato ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Campobasso Pietro Santoro il 5 gennaio 1980. Negli anni del suo ministero ha svolto questi incarichi. Parroco di Campochiaro e San Polomatesi, insegnante di religione al liceo scientifico di Boiano, vicario episcopale per il grande giubileo del 2000 per la pastorale diocesana. Parroco della concattedrale di Boiano, presidente dell'associazione Amici del consultorio La Famiglia, responsabile del centro famiglia incontro, vicario episcopale per la missione diocesana, vicario episcopale per il santuario della dolorata di Castelpetrosso. Monsignor Spina è stato eletto vescovo di Sulmona Valva il 3 aprile del 2007. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 9 giugno 2007. Ha fatto il suo ingresso in diocesi il 23 giugno successivo e dunque 9 giugno 2007, 9 giugno 2017. Saranno celebrati così venerdì prossimo i dieci anni della consacrazione di Angelo Spina, Monsignor Angelo Spina, vescovo della diocesi di Sulmona Valva. L'intera diocesi, si legge in una nota, si unirà al suo pastore nel rendimento di grazie al Signore per i dieci anni di ministero episcopale alla comunità diocesana e per invocare su di lui la benedizione di Dio affinché gli doni ogni giorno nuovo vigore per continuare a guidare la nostra chiesa locale. Conclude la nota del diocesi di Sulmona Valva. Celebrando Publio Ovidio Nasone, questo il tema di un'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona che è stata inaugurata nei giorni scorsi nel Teatro Comunale Maria Caniglia, il servizio è di Gaetano Trigilio. Nella ricorrenza del bimillenario di Ovidio che si sta celebrando a Sulmona in questi mesi con manifestazioni varie, anche l'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona ha voluto dare il proprio apporto celebrando il sommopoeta con una serie di iniziative che investono i temi della poesia e dell'arte pittorica. Nel foyer del Teatro Comunale Caniglia è stata allestita una mostra di Umberto Malvestuto che ha realizzato dipinti ispirati agli scritti di Ovidio. Altri pittori come Enrico Capuccilli, Elisa de Bartolomeis Carugno, Gabriella Di Mattia hanno esposto le loro opere sempre ispirate ai versi del poeta. Oltre alla pittura si è dato risalto anche ad altri artisti che attraverso la musica, la fotografia, la poesia, la recitazione hanno espresso vicinanza alle opere di Ovidio. Un progetto ambizioso dunque che si è realizzato sul palcoscenico del Caniglia con l'efficace conduzione di Fiorenza Quadraro. Dopo gli interventi del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e della presidente del Biond Shape Luisa Taglieri è stato proiettato su grande schermo un video sulla storia di Ovidio prodotto da Antonio del Beato Colmi. Sono state anche presentate visivamente le opere di Valvestuto e degli altri pittori tra cui le pittrici dell'Associazione Donne dell'Angelo. I vari momenti della serata sono stati intervallati da interventi di danze. Un momento importante è l'intervento della professoressa Palma Crea che ha raccontato Ovidio attraverso i suoi scritti. Se Ovidio però viene dato nel modo giusto Ovidio è di tutti e può diventare patrimonio di tutti. L'attore e regista del territorio Ezio Cardinale ha letto alcuni brani degli Amores e successivamente delle Tristie. Una serata dunque tutta dedicata al grande poeta. Questo momento è un momento di rilancio per il nostro territorio e Ovidio che torna con il suo mutamento, con il suo cambiamento perché come dice lui nulla perisce, tutto si trasforma, tutto vive e lui oggi rivive. La giostra è voluta stare al nostro fianco mettendo a valore quelle che sono le migliori esperienze, tra le migliori esperienze artistiche del territorio. Ringrazio Umberto Malvestuto ma anche tutti gli altri artisti che con lui hanno allestito una bellissima esposizione che sarà in piedi alcuni giorni e che la dice lunga di come questo territorio ha saputo rispondere alla chiamata uvidiana. Adesso ci occupiamo di basket perché oggi pomeriggio si svolgerà Sulmona il secondo appuntamento organizzato dalla storica società del Sulmona Basket per promuovere la disciplina attraverso i giovani bambini e bambine delle scuole elementari e medie. Sono invitati a partecipare oggi dalle 17 al centro sportivo della dottrina cristiana di Sulmona con ingresso nel lato di via Cornacchiola per partecipare alle lezioni di basket che saranno impartite da Mario Petrilli e Riccardo Iarussi che sono due ex giocatori storici del Sulmona Basket. Armati di passione dunque hanno messo su questa iniziativa che servirà per formare proprio una scuola basket dal prossimo mese di settembre con l'organizzazione di corsi e dunque il tutto avverrà anche oggi dopo la prima giornata di lunedì avverrà anche oggi negli impianti sportivi della dottrina cristiana di Sulmona per questi corsi gratuiti organizzati da due ex giocatori del Sulmona Basket che come dicevamo armati di tanta passione vogliono mettere in piedi un'iniziativa che coinvolgesse tanti giovani per ricreare così un settore giovanile all'avanguardia per quanto concerne il basket cittadino. Era questo l'ultimo argomento inserito in scaletta del nostro telegiornale ma come al solito prima di concludere definitivamente vediamo i film in programmazione alla multisala Iggoland di Corfinio Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar con proiezioni alle 18.20 alle 21.10 Wonder Woman alle 18.10 e alle 21.10 Fortunata alle 18.10 e alle 21.10 bene è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ma poi assisteremo allo sviluppo di addensamenti a ridosso dei rilievi con possibili precipitazioni localizzate sulle zone montuose pedemontane che si affacciano sul versante adriatico è previsto inoltre un ulteriore aumento della nuvolosità più compatta sulle zone montuose e sul settore orientale con possibili precipitazioni più probabili sulle zone collinarie montuose anche la mattinata di domani inizierà l'insegna del cielo nuvoloso con possibili precipitazioni al primo mattino mentre nel corso della giornata assisteremo ad ampie schiarite lungo la fascia costiera con venti settentrionali in rinforzo temperature generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi venti deboli orientali lungo la fascia costiera occidentali sulle zone interne montuose mare è quasi calmo poco mosso con molto indosso in aumento grazie a tutti grazie a tutti